Nel campionato di basket di serie D, la capolista Invicta batte con merito 94-69 il capo ASD e crea un solco di 4 punti sulle 3 seconde, capo, Santa Agata e Cefalù, restando in vetta in classifica imbattuta con 10 punti in 5 gare. La partenza è tesa con le squadre contratte che si studiano e la squadra messinese appare una vera corazzata, ma il quindetto Nisseno, pur soffrendo il peso avversario, riesce a tenere testa in velocità con giocate in contropiede e canestri pesanti. Una vittoria importantissima per la classifica e soprattutto per quello che hanno dato i ragazzi del coach Spena. Una Invicta che vola quando gli altri calano grazie al sacrificio del lavoro estivo, con un gruppo combatto e coeso che sognano il raggiungimento di un piazzamento playoff.